E tu come lo sai? No, ma che è davvero. Cosa mi sono persa? È forte. Leonard, mai sentito? Ti rendi conto? Lo so. Riesce sempre a superare le aspettative. Questa cosa mi elettrizza talmente da far battere il mio cuore all'impazzata. Come ha detto... E' elettrizzante! Non so come rispondere a questa domanda. Non ne ho idea. Quante domande fate voi? Ne fate tante le domande. E' elettrizzante!